ciao ragazzi forza forza andiamo è richiesto aiuto avanti forza forza andiamo avanti forza forza basta così ancora una volta ottimo lavoro grazie grazie per l'aiuto grazie per l'aiuto grazie per l'aiuto aiuto è richiesto aiuto ricevuto mi sto muovendo pronti via fatto ciao ciao alla prossima wow ciao 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 ciao